...sfide dell'enoturismo regionale, la masterclass promossa dall'associazione Saturnalia Vibo-Arenzia nell'ambito dell'edizione 2023 di Vicoli Divini, attraversato la regione alla scoperta dei suoi calici più rappresentativi degustati da addetti ai lavori e comunicatori di settore, con la guida competente di Michele Ruperto, sommelier professionista, giudice del concours mondial de Bruxelles. La degusteremo 8 vitigni da 8 territori differenti, dove cercheremo di evidenziare attraverso una masterclass come si possa sviluppare enoturismo a 360 gradi attorno al vino calabrese. Pecorello, greco bianco, zibibbo di pizzo, mantonico, greco nero, magliocco dolce, magliocco canino e caglioppo. 8 vitigni per analizzare l'evoluzione del settore in Calabria. Una Calabria meravigliosa, in fortissima crescita, che sta prendendo sempre di più consapevolezza del suo potenziale ed ora, secondo me, è arrivato anche il momento di fare un passo oltre, ovvero i produttori, consci della ricchezza infinita e della caleidoscopica prosperità che hanno tra le mani, devono fare un passo oltre nel senso di mettersi insieme. In sala i produttori dei vini degustati nel corso della masterclass e gli antipartner di un'iniziativa che avrà il suo seguito sabato 9 dicembre con vini gagliardi, spin-off invernale di Vicoli di Vini. Ci ritroviamo con delle temperature decisamente più basse ma con la stessa passione e di nuovo la voglia di incontrarci, di ripetere questo appuntamento a Vibo Valencia che accoglie visitatori da tutta la Calabria. Il protagonista è sempre il vino, le cantine calabresi, vecchie cantine che si ritroveranno e nuove che invece saranno conosciuti dai nostri visitatori. Stefano Mandarano per l'AC News 24.